Mamma mia ragazzi che partita incredibile Siamo tornati con qualche piccola limitazione Ma direi che l'occhiale scaramantico Che tra l'altro ha ottenuto su tutta la partita Ha fatto il suo lavoro Ha ottenuto il suo risultato Ma soprattutto l'Inter è riuscita a bloccare il City Là dove veramente hanno praticamente vinto sempre Forse solo un pareggio negli ultimi sei anni 0-0 con qualche rimpianto Ma anche con qualche rischio nel finale Grande gestione di Inzaghi Qualcuno era preoccupato per le sue scelte di questa mattina A proposito Ha azzeccato l'11 su 11 Insieme a Matteo Barzaghi e i suoi scoop A differenza anche di tutti i giornali Di tutta l'altra stampa Non ne abbiamo sbagliato neanche uno Di giocatore in campo Lautaro è entrato nel finale Ha fatto il suo Ma si vede che ancora non è in condizione Deve ritrovarla L'avevamo detto in estate La preparazione sarebbe stata un gran problema Gli arrivi scaglionati Tutto quello che Bisognava cercare di fare a ranghi ridotti E grande coraggio comunque di Inzaghi A tenerlo fuori in una partita così importante Che poteva essere anche Un bello spot per il pallone d'oro Turam Taremi coppia scelta Con Taremi che ha fatto Una grandissima partita di sacrificio Aiutando spesso anche in difesa Pulendo palloni Pressando Grande partita Abbiamo visto la sua qualità Quella di Zilinski Per rispondere agli ossessionati del mercato Che in estate criticavano Un Inter che Ha un po' faticato All'inizio quando il Manchester City Faceva poco vedere la palla Poi ha preso in mano la partita Mettendo in grandissima difficoltà E con una serie di occasioni Che forse bisognava cercare Di sfruttarle meglio Comunque direi Una grandissima partita Da parte di tutti Sette È il voto minimo Dei titolari Forse qualcosina meno Possiamo dare A chi è entrato dopo Ma secondo me hanno fatto tutti Benissimo Ci sono state anche delle belle occasioni Con Thuram Con Darmian Che quasi davanti al portiere Alla fine non ha avuto Il coraggio di Di tirare Quel tiro dal limite Fuori di poco Di Thuram Con Ederson Che si è salvato in qualche modo Alla fine del primo tempo Un barella totale Che direi che è la migliore risposta A chi lo critica E a quegli ex giocatori Che sostengono Che non sia a livello Dei top internazionali Mi sembra che abbia fatto La differenza anche nel finale Quando ha giocato regista Al posto di Chalanoglu Negli ultimi dieci minuti Sta crescendo In leadership In tecnica In giocate A livello proprio Dei top europei Nel secondo tempo L'Inter forse ha fatto Un po' più fatica Anche se ha avuto Una grandissima occasione Con Mkhitaryan Al settantaquattresimo Grandissima occasione Purtroppo non ha trovato La porta Mkhitaryan Anche lui tenuto In panchina Sorpresa Per uno Zilinski Che ha fatto Una ottima partita Anche lui Dimostrando Di poter essere Un titolare Un cotitolare Di quest'Inter Dimostrando che Insomma A Monza Si pensava Un po' troppo Anche a questa partita C'era qualcuno Anch'io Forse che un po' L'ho detto Questa mattina Che forse Dubitava Che ci potessero essere Già dei pensieri Da derby Ma Alla fine Abbiamo capito Che è un turnover Indispensabile Quello che dovrà fare Farà Inzaghi Con tutte queste partite Così importanti Una dopo l'altra Non ci potranno essere Sempre i soliti Titolarissimi Bisognerà gestirli Al meglio Secondo me Anche se pesanti Le assenze Di stasera Non hanno inciso Come a Monza Dove abbiamo capito Che non puoi fare a meno Di barella Cianoglu E bastoni Tutti insieme Ma ci metto Anche un acerbi Devastante Avete visto Holland Non pervenuto Grandissima Partita Come a Istanbul Di acerbi Holland Assolutamente Annullato Ha fatto un tiro Sporco In tutta la gara Non ne ha presa Una mai Alla fine Si lamentava Che gli teneva La maglia Ma per chi Considerava Cerbi Un giocatore Finito Penso che Questa sia La più bella Risposta Poi C'è stato Quel tiro Di Lautaro Nel finale Quelle due Occasioni Di testa Di Gundogan Che hanno Fatto venire Un po' Un po' Di paura Quel tiro Di Foden Quelle parate In sicurezza Di Sommer Che ha fatto Anche lui Una grandissima Partita Sbagliando forse Solo nel finale Per la pressione Altissima Un paio Di rinvii Ma anche lui Che partita Che personalità Che gestione Che anche dal basso Che costruzione Che gioco Che ha impostato Sempre Con i cambi Secondo me Giusti Qualcuno Anche rischioso Però Risultato Importantissimo All'esordio Di questa nuova Champions Con uno 0-0 Che In casa Del Manchester City È come una vittoria Vuol dire Iniziare col piede giusto Facendo un punto In trasferta E poi verranno Le gare da vincere A San Siro Per cercare Quei 16 17 18 punti Che abbiamo detto Che saranno Fondamentali Se facciamo Un parallelismo Tra la partita Del Milan Di ieri E l'Inter Contro i campioni D'Inghilterra Di stasera C'è una bella differenza Adesso però bisogna Recuperare al più Presso energie Sperare che Di Marco Anche se i miei dubbi Possa esserci E che Lautaro Non ha Sovraffaticato Stasera Non abbia Senta il clima derby E abbia Si sblocchi Finalmente Domenica Con Un derby Più che mai Importante Per la classifica Per Riaffermare La gerarchia Cittadina E tornare a vincere In campionato Pagellone Direi Sommer Sette e mezzo Praticamente Perfetto Abbiamo detto Se non Un paio di Rinvii Sbagliati Grande prova Di personalità Di Bisse Che sette Anche la sua scelta Poteva sembrare Un po' Un azzardo Al posto Di Pavard Ma credo Che abbia dimostrato Insomma Di essere anche lui Cresciuto tantissimo Quindi sette Anche Bissec Otto A Cerbi Perché abbiamo detto Holland Totalmente Annullato Sette e mezzo Bastoni Anche lui ha fatto Una grandissima partita Anticipi Sovrapposizioni Lanci Gestione A livello Altissimo Sette Darmian Anche lui Con una grande Gara Di Intensità Abnegazione Spinta Anche In determinati Frangenti Otto Barella Qui dò L'MVP Appunto Per come ha gestito La gara Per come ha duellato Per come ha recuperato Palloni Impostato E si è reso anche Un po' Pericoloso Ma Lui Come c'è Lanoglu Anche lui Diamo Un voto Importante Un otto Per come Anche si è mosso Nella gestione Del pallone Non ce ne voglia Aslani Ma ci passa Veramente Tanto di differenza Tra i due L'Inter Cambia Completamente Volto Ed è stato Fondamentale Soprattutto in fase Difensiva Con delle Giocate Importanti Sette Zilinski Con una bellissima Ripartenza E poi la dimostrazione Che può dare Tanta qualità A questa squadra Sette a Carlos Augusto Che ha resistito bene E ha anche spinto Quando ce n'era Il bisogno Sette abbiamo detto Taremi Che si è sacrificato Tantissimo Sette Turam Che non ha Inciso Non ha segnato Ha avuto delle occasioni Ma Anche lui Ha aiutato Ha fatto ripartire La squadra Ha subito falli Ha gestito Grande partita Anche lui Sei e mezzo Lautaro Che ha avuto Quel tiro centrale Che forse poteva Passare il pallone A un compagno Sette Amiche italiane Entrato con la sua Intelligenza calcistica Spiace Per quella Grandissima Occasione Che poteva Cambiare Il risultato Un buon Dunfri Sette anche lui Per come è entrato Con Grande Presenza A volte Manca in questo Bene anche Pavard Diamo Un sei e mezzo Anche lui Sette a frattesi Perché a me è piaciuto Non era facile Il momento in cui è entrato Ha dato corsa Ha dato recuperi Ha dato intensità E poi diamo un bellotto Al demone Perché è riuscito A bloccare il city Nel suo stadio Cosa che è riuscito Veramente a poche Poche compagini A pochi allenatori Ha di nuovo messo in grande difficoltà Guardiola Ha gestito i suoi uomini Un punto Per cominciare Alla grandissima Questa Nuova Super Champions Si poteva vincere Anche perdere Direi risultato giusto Adesso Voltiamo pagina Spazio al derby E Occhiale scaramantico Formazione Totalmente azzeccata Il canale c'è sempre Continuate a sostenerlo Grazie a tutti